ti conviene fermarti e sgisarti? se riesco vola, non ti blocco chiudilo se non riesci è sicuro che vola no, non riesco all'epipo oh non lo faccio non lo faccio non lo faccio non lo faccio scarico un botto sui piedi ah ovvio mi raccino abiliare da lì puoi volare da lì un po' aia 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 aia